Cicatrici è un progetto del Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler, svolto insieme ad altre due unità della Fondazione, l'Istituto Storico Italo-Germanico ISIG e il Centro 3D Optical Meteorology Unit, 3DOM, in collaborazione anche con un partner esterno, l'Università degli Studi di Roma 3, e con il supporto di Fondazione Caritro. Cicatrici è un progetto di ricerca che vuole esplorare la storia, la memoria e le questioni d'attualità che riguardano la città di Trento e le comunità che la abitano, le sue diverse identità, e intraprende questo percorso partendo dalla considerazione che lo spazio e i segni nello spazio urbano sono particolarmente elementi molto capaci di raccontare processi che riguardano le società, le comunità e il tessuto urbano. Partiamo quindi da questi segni che in alcuni casi testimoniano degli strappi più o meno decisi, delle ferite, in altri sono in realtà dei segni di cambiamenti che sono avvenuti nella città, in alcuni casi sono segni che sono stati elaborati, quindi il tessuto urbano ha prodotto delle cicatrici di più lunga durata, in altri casi questi strappi, questi momenti di passaggio e di cambiamento sono ancora oggi al centro dell'elaborazione e della riflessione pubblica della città e ci interessa studiarli per consegnare a questa riflessione anche degli elementi di consapevolezza e di riflessività, in modo anche da rispondere insieme a quelle che sono le sfide del futuro che si prospettano alla città di Trento, una città alpina sempre più immessa nei processi di mobilità, di beni ma anche di persone e di globalizzazione. Quali segni in particolare ci interessano? Andremo a distinguere alcune dimensioni spaziali al centro della nostra analisi, in primo luogo segni e luoghi che hanno un'alta valenza storica e quindi che segnano delle stratificazioni di carattere storico rilevanti di interesse per la società trentina, una seconda dimensione che mettiamo a fuoco riguarda invece la dimensione appunto religiosa, quindi luoghi che segnano e testimoniano la presenza di identità, comunità, pratiche, forme di vita di carattere religioso e delle diverse religioni che popolano sempre più la città. Una terza dimensione invece riguarda lo sviluppo dell'urbanizzazione e la creazione di nuovi insediamenti edilizi e quindi come si è modificata la città, i segni che raccontano dell'espansione della città dall'originario cambiamento del corso del fiume o del perimetro delle mura sino alla costruzione di nuovi quartieri abitativi e che spostano sempre più i confini della città all'esterno.